È un servizio spesso molto silenzioso, ma altrettanto necessario quello che i gruppi vincenziani offrono ad una fascia dimenticata, quella dell'estrema povertà. Tutte le mattine si danno appuntamento qui decine di poveri, italiani e stranieri chiedendo cibo, la possibilità di una doccia e del vestiario. Una solidarietà organizzata, quella della San Vincenzo, che farete tra città e regioni. In Veneto i gruppi di volontariato vincenziano sono a Rovigo, Verona e Vicenza, da dove arriva la Presidente regionale. Abbiamo una parte sul territorio, quindi come ci ha insegnato San Vincenzo, la visita domiciliare, la conoscenza delle famiglie, l'accompagnamento delle persone, l'inserimento nel campo lavorativo e anche nel campo sociale. Quindi li accompagniamo dagli servizi sociali e facciamo un accompagnamento a queste famiglie per aiutarle a inserirsi. Poi abbiamo questo servizio che voi avete già visto, che è la mensa, la casa di carità, quindi un servizio, una casa di accoglienza. Qui alla Casa della Carità di Verona si offrono i pasti a colazione e cena, ascolto per le varie necessità e il calore umano altrettanto necessario per vivere. Qui abbiamo un centro ascolto e anche il segretariato sociale, ascoltiamo le persone, vediamo quali sono le loro esigenze e dopo lavoriamo in rete con il Comune di Verona e gli assistenti sociali oppure con altre associazioni. Ecco, poi abbiamo il guardaroba, il lunedì e il mercoledì vestiamo donne e bambini, il giovedì e il venerdì gli uomini. Lavoriamo con tutti i volontari, c'è un dipendente che è addetto alla cucina e una dipendente che è addetta alle docce e alle pulizie. I volontari sono i più diversi, tra di loro qualche giovane che svolge il servizio civile. Attualmente sto facendo un corso di laurea in diritti umani e mi piaceva l'idea di poter mettere anche in pratica il servizio con le persone e dare un contributo di aiuto. Come sta andando l'esperienza? Bene, bene, mi sto trovando molto bene sia con il personale che con l'utenza. I gruppi di volontariato a Verona sono cinque e creano una rete importante che dà un supporto necessario e tanta soddisfazione. Noi incontriamo la gente per strada, la accompagniamo dentro, parlano di loro problemi, c'è un sostegno umano. È molto importante perché ritrovano spesso il coraggio di parlare e di farsi accompagnare in centri competenti.